E' cominciata questa mattina la preparazione atletica dell'Orlandina Basket in vista della stagione 2020-2021. Sotto gli ordini del preparatore fisico Antonio Fazio, i ragazzi hanno svolto la parte atletica mattinata presso la struttura del tartarughino, mentre pomeriggio continueranno gli allenamenti al Palafantozzi. Dopo sette mesi di niente, se non ci fosse un buon spirito e un buon atteggiamento come si sente dagli applausi, vuol dire che avrei sbagliato tutto subito in costruzione della squadra. Sono un gruppo giovane e bisognerà tenerli tranquilli il più possibile, perché credo che saranno iper-eccitati in questo inizio di preparazione, ma va bene così, siamo tranquilli. Sono previste delle amichevoli prima della Supercoppa? Assolutamente sì, in tutto vorremmo giocare una decina di partite, cominceremo sicuramente con Torrenova lunedì della prossima settimana, ce ne saranno altre, ma siccome sono anche in corso d'opera, ci sono delle date in cui io vorrei giocare, ma ancora non abbiamo un interlocutore, aspetto a dirti le altre, quindi partiamo da Torrenova lunedì prossimo. Sono arrivati due americani, come ti sembrano? Per adesso, la prima settimana sono tutti bravissimi, però speriamo di aver azzeccato le scelte, e se non altro si sono presentati in un'ottima condizione fisica e con un bellissimo atteggiamento anche nei confronti dei compagni, sono contento di loro. La preparazione atletica come si svolgerà? Allora, tranne i primi tre giorni, amiamo lavorare in maniera integrata, quindi usando esercizi di basket per condizionare i ragazzi. Chiaramente ci avvarremo, come al solito, della collaborazione di Neri Fitness per quanto riguarda la parte di forza, e sono assolutamente contento che uno dei nostri ruchi, Antonio Fazio, abbia già il controllo della situazione, e credo che sarà bravissimo nel, diciamo, ottemperare a quelle che sono le mie tremende esigenze. Grazie. Grazie.